Signore e signori, ecco davanti a voi, in procinto di scomparire, il rappresentante di una categoria che va anch'essa scomparendo. Noi, piccoli artigiani borghesi, noi che lealmente affrontiamo col piede di porco in mano le casse di nickel delle bottegucce, noi che veniamo ingoiati dai grandi imprenditori dietro i quali stanno le banche. Che cos'è un grimaldello di fronte a un titolo azionario? Che cos'è l'effrazione di una banca di fronte alla fondazione di una banca? Che cos'è l'omicidio di un uomo di fronte ad una vita a salario? Mostra i denti il pesce cane e si vede che lì ha un coltello, solo aliccio, ma vedere non lo fa. Sulla spiaggia di fregiene, giace un tale a mezzodì. Poco prima, e lo sappiamo, l'iccio, gello e re, han trovato, amicocco, un coltello, ha in mezzo al segno. Chi sia stato l'iccio, gello? Questi moni non ce n'è. a ripetti l'industriale, un ignoto, un disparo. Lui ne spende il capitale, ma provarlo non si può. Se i bambini sono bruciati nell'incendio di Forlì, l'iccio, gello, sa qualcosa, ma non parla, è bel vergine. Vedovella minorenne, il cui nome ognuno lo sa, ci rimise un di le penne, ma la colpa chi l'avrà? L'iccio, gello, sa qualcosa, ma non parla, è bel vergine. Ging 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 Ging